Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano due chilometri di coda in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Sempre per lavori in direzione Firenze e rallentamenti tra La Strassigna e Scandicci. A Firenze per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto sono in vigore di vieti di transito nella piazza, da Via delle Hortensi a Lungarno dei Fioppi e in Via dei Ligustri. Con il rientro a scuola anche per gli studenti delle superiori è in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico, aggiornamenti e approfondimenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 857 05 30. Ed è tutto, buon viaggio!